Asilo nido comunale, ridotte le ore di lavoro, la diminuzione del numero di bambini ospitati nella struttura ha comportato una riduzione delle ore di lavoro delle educatrici. Ne abbiamo parlato con il segretario territoriale della funzione pubblica CGL. Carbonia, emergenza rifiuti, una vera e propria discarica a cielo aperto nella periferia nord di Carbonia. Un'emergenza ambientale che mette seriamente a rischio il decoro urbano. Parcheggia a pagamento, l'opinione della D-Consum. A metà settembre a Carbonia verranno ripristinati i parcheggi a pagamento. Su questo argomento abbiamo intervistato il segretario della D-Consum Giancarlo Cancetta. I segreti della pesca dal Sulcis a Sky. Partirà domenica 11 settembre sul canale 236 di Sky. Il programma interamente realizzato nel Sulcis sul mondo della pesca, ideato e curato da professionisti di Carbonia. Ben ritrovati su Canale 40. Apriamo il nostro telegiornale parlando dell'asilo nido comunale di Carbonia. Come saprete nei giorni scorsi sono state pubblicate le gradatorie che prevedono una riduzione del numero di bambini ospitati all'interno dell'asilo nido. Al numero di bambini ridotti fa seguito anche una riduzione delle ore di lavoro delle educatrici dell'asilo nido. Ne abbiamo parlato con il segretario della funzione pubblica della CGL, Antonello Congiu. Sentiamo l'intervista. Siamo in compagnia di Antonello Congiu, funzione pubblica della CGL territoriale, per parlare della problematica dell'asilo nido di Carbonia, dove c'è stato un ridimensionamento del numero di bambini ospitati, a quale farà seguito purtroppo anche una riduzione del numero di ore di lavoro per il personale impiegato? Ne vogliamo parlare meglio. Al quale ha già fatto seguito una riduzione dell'orario di lavoro del personale impiegato. Noi ci siamo preoccupati il 22 di agosto di segnalare all'amministrazione comunale che la scelta di ammettere solo 38 bambini di quelli che avevano fatto istanza poteva avere questi esiti. Purtroppo si è avverato perché ovviamente la società che gestisce i servizi di asilo nido ha adeguato il rapporto numerico di animatrici rispetto ai bambini adeguandolo a quello che è previsto dalla normativa regionale. La cosa che ci sembra paradossale per cui ci siamo permessi di scrivere all'amministrazione è proprio quella di segnalare che quando si fece l'appalto, l'appalto si fece naturalmente tenendo conto del numero di iscrizioni dei bambini in quel momento e quello portò allora già una flessione delle ore per le operatrici che sono 10. Qual problema lo superammo? Grazie all'impegno dell'amministrazione che si adottò le leve finanziarie necessarie per abbassare le tariffe, grazie all'impegno della società che gestisce che si dimostrò sensibile a livelli occupazionali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi non licenzio nessuno ma riducemo gli orari piuttosto che licenziare e grazie soprattutto alle operatrici che si sono adoperate nel tempo per adeguare i loro turni e promuovendo i servizi per fare in modo che quei servizi crescessero. Finalmente siamo riusciti ad avere un servizio che andava verso la piena potenzialità, verso i 60 bambini che partecipano a quel tipo di servizio che è un bellissimo servizio, io lo posso dire anche da genitore e francamente adesso a questo punto ci sembra che un provvedimento di quella natura vanifichi tutto il lavoro che abbiamo svolto sino qui. È solo per questo che ci siamo preoccupati di scrivere all'amministrazione per capire quali atti volessero adottare per evitare che questo succedesse. Non ci hanno risposto e nel momento in cui la società ha adottato il primo provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro per le lavoratrici noi ci siamo visti costretti a ritornare sull'argomento. Parliamo adesso dei parcheggi a pagamento a Carbonia, una cherelle tra i cittadini di Carbonia se sono preferibili i parcheggi a pagamento, i parcheggi con il disco orario oppure i parcheggi liberi. Ne abbiamo parlato stamattina in un'intervista con Giancarlo Cancedda, segretario generale della Di Consum. Siamo in compagnia di Giancarlo Cancedda, segretario territoriale della Di Consum per parlare della questione dei parcheggi a pagamento, dei parcheggi liberi e dei parcheggi con disco orario. Sappiamo che il 15 settembre ci sarà la ripresa e il ripristino dei parcheggi a pagamento. Cosa ne pensate? Dunque, finalmente, devo dire, finalmente il servizio dei parcheggi a pagamento verrà ripristinato in città. Un servizio, secondo noi, importantissimo, secondo noi l'associazione dei consumatori per diversi motivi. In questo periodo di vacanza, diciamo così, che non c'erano i parcheggi a pagamento abbiamo visto, notato, con più prove in diversi orari, che parcheggiare in centro è diventato un vero problema, una caccia al tesoro di un parcheggio auto, perché il parcheggio libero viene preso come diritto ad occupare uno spazio per tempo illimitato, senza pensare alla possibilità di altri di accedere alle varie attività commerciali. Quindi noi siamo per i parcheggi a pagamenti per due motivi molto semplici. Il primo, dal lavoro dei ragazzi, sei, sette, dieci, quel che saranno. E in città abbiamo estremo bisogno di giovani che lavorano. Secondo, da possibilità di un cambio dei parcheggi, quindi le persone pagano i loro 40 centesimi per mezz'ora, vanno via e danno possibilità ad altri. Il vero è che questo problema non è visto di buon occhio dei commercianti, ma il commerciante deve mettersi in testa che per lavorare deve dare la possibilità agli avventori e consumatori di accedere ai loro servizi, dando la possibilità appunto di parcheggiare. A limite si fanno carico dei 40 centesimi con promozioni tipo ogni 20 euro, 25 di spesa, ti do io il buono. L'altra possibilità, i parcheggi a disco orario. Anche questa è una cosa molto importante, interessante, ma c'è un problema concreto che questo deve risolverlo la nostra amministrazione comunale. Qual è il problema? Che parcheggi a disco orario, le persone parcheggiano, mettono il tagliandino mezz'ora o un'ora, poi dovrebbero andare via. Chi non osserva gli orari andrebbe punito, sanzionato da chi? Dai vigili urbani che dovrebbero essere presenti e controllare. Carboni ha una carenza di circa il 50% nell'organico della polizia urbana. Emergenza rifiuti a Carboni è una vera e propria discarica trovata in prossimità di Via Dalmazia. Vediamo i particolari nel servizio. Emergenza rifiuti a Carbonia. Le immagini che vedete sono emblematiche e testimoniano l'esistenza di una vera e propria discarica a cielo aperto nella periferia nord di Carbonia, in una stradina secondaria situata dietro un supermercato di Via Dalmazia. Materassi, buste, vecchi televisori a tubo catodico, scarpe e carcasse di automobili sono il triste spettacolo che troviamo ormai da diversi mesi in questa zona. Questo peraltro è soltanto uno dei tanti casi di discariche a cielo aperto che rinveniamo a Carbonia ed intorni, soprattutto nelle strade poco trafficate e non illuminate. Ciò porta all'attenzione dei media e soprattutto delle istituzioni deputate un problema non più rinviabile, quello dell'emergenza rifiuti. Un'emergenza ambientale che mette seriamente in pericolo il decoro urbano. Risolvere questo problema è possibile? Probabilmente non è possibile estirpare totalmente questo fenomeno, ma è sicuramente possibile porre un argine a questa cattiva abitudine dei cittadini. In che modo? Intanto il Comune di Carbonia potrebbe attivarsi quanto prima per rimuovere i rifiuti presenti nelle discariche a cielo aperto. Si potrebbe poi intensificare l'attività di monitoraggio da parte dei vigili urbani. Inoltre potrebbero essere installate delle telecamere di videosorveglianza in grado di disincentivare i cittadini a gettare illegalmente tali rifiuti, punendo i trasgressori con multe salate. Apriamo il nostro secondo blocco parlando della sanità perché è slittato l'incontro previsto per oggi tra i sindaci del Sulcis e l'assessore regionale della sanità Luigi Arru. L'incontro era stato chiesto dal presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis, Gianfranco Trullu, per discutere delle principali criticità del settore sanitario nel Sulcis, come i tempi di attesa eccessivamente lunghi, la mobilità passiva, il randagismo e il mancato rinnovo del contratto dei lavoratori interinali. I motivi dello slittamento della riunione sono dovuti principalmente alla mancata nomina del supermanager della ASL unica e al possibile rimpasto della giunta regionale. Intanto i sindaci del Sulcis chiedono che venga definita a più presto una nuova data. Cronaca, sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Iglesias per trovare il malfattore che ieri in tarda mattinata a Uta ha minacciato con una pistola e derubato di 400 euro un commerciante di generi alimentari del posto per poi darsi alla fuga in auto. Seabass Hunters, un programma dedicato interamente alla pesca realizzato nel Sulcis da professionisti di Carbonia, andrà in onda a partire da domenica 11 settembre sul canale 236 di Sky. Questa mattina abbiamo incontrato l'ideatore e regista del programma Luca Suras, l'intervista da parte di Francesca Rignussa. Luca, una grande passione per la pesca, una grande passione per i documentari, quello che è documentare, ciò che avviene, li hai fuse, li hai unite in un tutt'uno che poi è diventato anche la tua professione. Sì, è una delle mie due professioni, però insomma sì, è una cosa che nasce da lontano, da quando ero bambino. La pesca è stata quasi sempre una malattia, se non mi portavano a pescare piangevo, facevo disastri. In verità in tutta questa vicenda c'entrano tanto le donne perché, cosa strana, essendo la pesca una cosa da uomini, da uomini rudi, i pescatori sono sporchi, sai, hanno sempre un po' di squame addosso, puzzano anche, insomma, non sono particolarmente attraenti. Però a portarmi dentro questa passione è stata una donna, mia sorella Donatella. A farmi iniziare a fare video è stata una donna, a Canale 40, nei tempi che furono, mi diede fiducia, quindi da lì è nata questa passione. Poi la passione per le immagini, ugualmente me l'ha trasmessa mio fratello perché è pittore, quindi da bambino io non giocavo con tutti i giochi che hanno gli altri bambini, io giocavo, leggevo i libri di Rembrandt, di Van Gogh, di Paul Klee o meglio di Pollock e quindi tutte queste immagini mi sono rimaste in testa e poi l'arte, insomma, ti fa crescere. Crescendo con l'arte hai sempre necessità di fare qualcosa che sia legato a questa e ci ho messo a dentro anche la pesca. Ecco, tornando ai giorni nostri, domenica 11, il prodotto del tuo lavoro, lavoro fatto anche in team, se vogliamo, non sei da solo. Con Michele che sta dietro. Esatto, con il nostro Michele Melis, il nostro operatore, dicevo, domenica 11 su Sky, sulla piattaforma Sky, andrà in onda la prima puntata di un documentario che avete confezionato, diciamo, è tutto made in sulcis. Tutto made in carbonia, tutto made in sulcis perché la voce, che è stata una scommessa, la voce di Fabio Bellia, lui inizialmente non voleva fare documentari perché mi ha detto, io mi disse, allora, io faccio spot, non faccio documentari, io l'ho convinto a provare, da lì è nata questa collaborazione. La voce dei nostri documentari, cosa molto importante, è quella di Fabio Bellia. Dietro l'occhio che mi riprende è quello di Michele che anche oggi mi sta riprendendo, c'è anche Milena che collabora ugualmente con le riprese e tutto il resto che c'è da fare. L'11 settembre andrà in onda questo primo episodio di una serie che si intitola Seabassanters, appunto, Spigolari, perché la spigola, il pesce, la spigola che viene anche chiamato dai pescatori sportivi, la regina per il prestigio, per il suo carattere un po' da femmina preziosa, ecco, viene chiamato la regina per questa ragione, è un must della pesca. Abbiamo scelto di fare, in maniera folle forse, abbiamo scelto questa scommessa di fare 10 trasmissioni, tutte dedicate a una sola specie che è quella della spigola. Ricordiamo il canale, Luca. Canale 236, Sky Pesca, quindi piattaforma Sky, l'11 settembre alle 22 inizierà Seabassanters. Quindi avremo anche modo, non tanto noi, ma chi sta al di fuori, chi sta lontano da noi avrà modo di vedere e ammirare anche tutti i nostri paesaggi, tutti i nostri posti di mare. È stato quasi interamente girato nel Sulcis, quasi interamente. È un modo diverso di mostrare il Sulcis, anche se vogliamo una scommessa in un territorio nel quale le persone tendono a vittimizzarsi, cioè a prendere di petto una situazione. Una cosa difficile, fare 10 trasmissioni di spigole nel Sulcis, un territorio depresso, ci siamo riusciti. Non siamo poi così spacciati? No, non siamo così spacciati. A me danno fastidio le persone che si vittimizzano, mi dà fastidio il vittimismo, mi dà fastidio questo in continuazione chiedere aiuto agli altri. Noi siamo forti, il Sulcis è fatto di persone forti, ci hanno petto, ce lo mettono. È una cittadina del Sulcis ad essere stata baciata dalla fortuna, è infatti un cittadino di Gonesa che ha vinto quasi 32 mila euro giocandone 2 alle 10 e l'8, utilizzando la modalità estrazione. La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria di Liliana Scalvini in Corso Matteotti e rimane per ora la vincita più alta d'Italia in questo concorso. Venerdì 9 settembre nel parco di Villa Sulcis a Carbonia, presso l'Art Music Bar Pitosforo alle ore 18.30, si parlerà di Costituzione, riforma costituzionale e delle ragioni del no al referendum previsto per il prossimo autunno. Partecipazione democratica si parlerà con Pippo Civati, segretario nazionale di Possibile e parlamentare della Repubblica Italiana. Coordinerà il dibattito Sara Marrocu, portavoce del comitato Tristan-Zara Possibile del Sulcis Iglesiente. E sempre il 9 settembre si terrà a Gonesa la presentazione e l'anteprima del film Another Sun con la regia di Roberto Casti. Another Sun nasce come album musicale di Boys and Kiefer, progetto visivo e sonoro dell'artista e compositore Roberto Casti. L'evento è organizzato in collaborazione con Giuseppe Frau Gallery, Centro Servizi Culturali Carboni Iglesias della Società Umanitaria, Eurocop Conad, Tiscali News e Comune di Gonesa. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, ma state con noi perché adesso c'è il meteo e il telegiornale in lingua sarda. Grazie e arrivederci. Previsioni per mercoledì 7 settembre. Nubi sparse, vento da nord-nord-ovest con intensità di 15 km orari, raffiche fino a 19 km orari, temperature minime comprese tra 15 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 29 gradi.